Silvana Calderisi, quali obiettivi di questo congresso? Io mi occupo della parte psichiatrica, quindi il nostro gruppo di lavoro discute il problema dell'aderenza al trattamento in ambito psichiatrico. L'obiettivo è quello di migliorare naturalmente l'aderenza al trattamento per i nostri pazienti, ma non per migliorare l'aderenza in sé, ma per migliorare l'outcome, l'esito dei nostri trattamenti per i pazienti con disturbi psichiatrici. Naturalmente noi ci occupiamo in questo caso soprattutto dei disturbi psichiatrici che chiamiamo severi, come per esempio i gravi disturbi psicotici, il disturbo bipolare, le gravi depressioni, ma anche i disturbi alimentari. E ci occupiamo dell'aderenza non solo al trattamento farmacologico, ma anche ai trattamenti psicosociali, perché in moltissimi casi il destino di cronicità e di poche possibilità di reale recovery per questi nostri pazienti dipende dal fatto che effettivamente i trattamenti non vengono praticati. Quindi identificare i fattori alla base della mancata aderenza e identificare le strategie per migliorare l'aderenza ai trattamenti è uno dei nostri obiettivi per questo convegno. Qual è la consapevolezza a livello europeo della popolazione senile in generale al momento? La consapevolezza della maggiore severità del problema per gli anziani esiste, ma nella nostra disciplina l'allarme è soprattutto per la popolazione giovanile. Non che non ci sia una grossa attenzione per l'anziano, dove il problema dell'aderenza è ovviamente reso più complesso dal fatto che questi pazienti molto spesso praticano trattamenti per molte condizioni patologiche. Quindi anche il paziente con una problematica di tipo psichiatrico deve poi rendere compatibili le terapie per il disturbo psichiatrico con le problematiche metaboliche, cardiovascolari e così via. Quindi in questo senso nel paziente più anziano il problema è particolarmente sensibile. Ma alla nostra attenzione c'è anche l'aderenza per una popolazione giovane perché naturalmente in quel caso tutto il destino della vita della persona dipende dall'aderenza al trattamento.